A servizio della piantazione del Signore si sono i doni carismatici. L'effusione dello Spirito Santo continua la sua ozione nella vita della comunità chiamate a far fruttificare i doni piantati dal Signore. Tutto ciò è testimoniati dall'evento della Pentecoste. Leggiamo così in dati degli Apostoli. E mentre si compiua il giorno di Pentecoste, tutti erano nello stesso luogo insieme. Ed un tratto si fece dal cielo un fragore, come di un vento impetuoso, che soffia e riempì la casa intera dove erano seduti. E apparvero loro dividendosi delle lingue come di fuoco, e si posarono una su ciascuno di loro. E tutti furono riempiti di Spirito Santo. Incominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. La Pentecoste è evento fondativo, in quanto segna la presenza dello Spirito sui discepoli e sulla Chiesa, vigna del Signore. Infatti lo Spirito scende sui discepoli, assidui e concordi nella preghiera. La piantagione del Signore, nell'accoglienza profonda del dono e dello Spirito, divenne il nuovo Tempio. Non sapete, dice Paolo, che siete Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi. Se uno distrugge il Tempio di Dio, Dio distruggerà lui. L'azione dello Spirito trasforma l'uomo. Noi siamo infatti il Tempio del Dio vivente. In questo Tempio di Dio, ogni credente è a sua volta un Tempio dello Spirito, ricevuto da Dio. Dio è il principio vitale dei doni e dei ministeri ecclesiali. In quanto proprietà di Dio, la Chiesa e i battezzati sono santi. Anche Paolo mette in relazione espressamente la sua santità con il concetto di Tempio di Dio. Questa santità separa la Chiesa dagli infedeli e dai loro dei, eliminando le impurità. La forza carismatica nasce dalla Pentecoste. Pietro ricorda che alle 9 del mattino si è realizzata la discesa dello Spirito, mentre alcuni credevano che avevano bevuto il vino. Luca è profondamente intriso nella tradizione giudaica, secondo la quale sul Sinai la parola divina si manifestò in 70 lingue, con un'allusione ai 70 popoli che costituivano il mondo. Questo si riprende a modo suo negli Atti degli Apostoli. Ognuno poteva leggere quella parola, ascoltarle, nella propria lingua. L'elenco dei popoli, in Luca, è intenzionalmente universale e suego una linea geografica che parla dall'Oriente, per chi vive in Palestina, dalla Mesopotamia, prosegue verso Occidente, passando per l'Asia Minore, l'Africa, per arrivare finalmente a Roma, il centro del mondo in quei tempi. I quattro nomi finali trovano una spiegazione come sintesi dei precedenti. Sul piano religioso, nati nella religione rivelata, e dei convertiti, giudei e proseliti. Sul piano geografico, abitanti delle isole, i cretesi, abitanti della terraferma, gli arabi. È un modo di spiegare, di esprimere l'universalità dell'azione dello Spirito. La possibilità di capire nella propria lingua le opere di Dio non è altro che la comunicazione del Vangelo, la buona notizia della salvezza, della pace, della liberazione in Gesù Cristo, dentro la propria cultura. Dunque, per poter diventare cristiano, nessuno ha bisogno di essere privato della propria identità e della propria cultura. Sarà necessaria sempre una purificazione e una dilatazione di quella identità e di quella cultura. Nell'episodio della Pentecoste, Luca ci invita a guardare verso le quattro direzioni del mondo per scoprire che lo Spirito del Signore è presente ormai dovunque. E' nata una realtà che tende per sua stessa natura all'universalismo. E' al contrario di ciò che è avvenuto a Babele, quando l'uomo, invidioso di Dio, aveva preteso di raggiungere il cielo ed era stato umiliato per la sua superbia. Nella Pentecoste l'uomo si affida completamente nelle mani di Dio e ne nasce così una nuova unità degli estirpi della terra. I doni gerarchici sono al servizio della piantagione del Signore. In questa luce vanno compresi e vissuti anche i doni gerarchici. Voi sapete che c'è sempre una relazione fra doni carismatici e doni gerarchici. Quegli doni conferiti con il sacramento dell'ordinazione episcopale, sacerdotale e diaconale. Tali doni sono intimamente connessi a quelli carismatici e non possono essere separati da essi. La missione di tutta la Chiesa come pianta fertile dell'amore di Dio nasce dalla sinergia di questi doni che servono all'edificazione di tutto il corpo di Cristo che è la Chiesa. In questo particolare momento storico l'invito a essere una Chiesa in uscita, come dice il Papa, è possibile grazie all'azione dello Spirito. La comunità deve riconoscere, lasciare spazio e ricercare però una sinergia tra i numerosi carismi donati dallo Spirito, così da risvegliare e corroborare la vita di fede del popolo di Dio. I doni gerarchici e quelli carismatici non configurano dei ministeri autonomi perché sono strettamente collegati tra di loro. Gli uni non hanno ragione di essere senza gli altri. Il Santo Padre ha spesso ricordato come tutti i movimenti carismatici e missionari sono in stretta relazione con i pastori della Chiesa. Anche l'esercizio ecclesiale dei doni carismatici, doni gerarchici, non può produrre né giusta posizione né separazioni, meno conflitti fra questi doni dello Spirito. Infatti le istituzioni della gerarchia ecclesiale, per loro stessa natura, devono anche accogliere le indicazioni provenienti dai doni carismatici. Nello stesso tempo, i doni carismatici devono essere disponibili ad alimentare generosamente la vita dell'istituzione ecclesiale, in obbedienza e in comunione con la gerarchia. Dunque il compito del rinnovamento dovrebbe essere quello di accentuare e rendere presente la dimensione carismatica nella vita della Chiesa, nel servizio alle esigenze della più grande realtà ecclesiale, manifestando sempre la complementarietà che esiste fra doni gerarchici e carismatici. I doni carismatici sono distribuiti liberamente dallo Spirito Santo, affinché la grazia sacramentale porti frutto nella vita cristiana in modo diversificato e a tutti i suoi livelli, così dice l'esortazione juvenescita ecclesia, in modo tale da muovere i fedeli, a rispondere in piena libertà e in modo adeguato ai tempi al dono della salvezza, facendo di se stessi un dono di amore per gli altri e una testimonianza autentica del Vangelo di fronte a tutti gli uomini. Anche nella vita ecclesiale vi è sempre la tentazione di derive autorreferenziali e solvicistiche. Quella di vincere tale derive è una responsabilità a cui nessuno si può sottrarre. Ci sarà tanto più possibile quanto più fattiva sia la comunione all'interno dei movimenti, del vostro, ma anche con il Papa, con i Vescovi e con i fedeli tutti, nella certezza che lo Spirito è sempre imprevedibile e travalica anche le nostre personali incapacità. In questa prospettiva e con questo auspicio vorrei invocare insieme a tutti voi il dono dello Spirito con parole di Sant'Agostino, che dice così Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di Sapienza Donami lo sguardo e l'udito interiore affinché io non mi attacchi alle cose materiali ma ricerchi sempre le realtà spirituali. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell'amore riversa sempre più la carità nel mio cuore. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito dell'amore riversa sempre la tua carità nel mio cuore. Vieni in me, Spirito Santo, Spirito di verità, concedimi di pervenire la conoscenza della verità in tutta la sua pienezza. Vieni in me, Spirito Santo, acqua viva che zampilla per la vita eterna. Fammi la grazia di giungere a contemplare il volto del Padre nella vita e nella gioia senza fine. Amen. Grazie tante per la vostra attenzione. Grazie. Grazie.